Mi sembra che in questo mondo in cui vanno ingigantendo crisi e problemi occorra urgentemente una moralità, una condotta di marca completamente diversa, un modo di agire che scaturisca dalla comprensione di tutto intero il processo della vita umana. Noi cerchiamo di fronteggiare questi problemi con rimedi politici o d'organizzativi, con modifiche di carattere economico e riforme di vario genere. Con nessuno di questi mezzi, tuttavia, potremo mai risolvere le complesse difficoltà dell'esistenza umana, anche se essi apportano un temporaneo miglioramento. Ogni riforma, per ampia e duratura che possa apparire, da sola non è altro che matrice di ulteriore disordine e di rinnovata necessità di riforma. Se non è accompagnato dalla comprensione della complessa condizione umana, il mero riformare non può produrre che una imbarazzante richiesta di ulteriori riforme. Non c'è mai fine alle riforme. È una strada che non può condurre ad alcuna soluzione di fondo. Nemmeno le rivoluzioni politiche, economiche o sociali costituiscono una risposta. Infatti non hanno prodotto che spaventose tirannie o il puro e semplice trasferimento del potere e dell'autorità da un gruppo a un altro. Rivoluzioni di questo tipo non forniscono in nessuna occasione la via d'uscita dallo stato di confusione e conflitto in cui versiamo. C'è però una rivoluzione di natura totalmente diversa che deve avvalersi di tutti i nostri ricorsi per avverarsi perché si possa venire fuori dalla serie ininterrotta di ansie, di conflitti, di frustrazioni nei cui là ci siamo prigionieri e che neanche le religioni organizzate sono riuscite a slacciare, a risolvere. Questa rivoluzione non deve cominciare da teoria o ideazione che in ultimo si dimostrano prive di valore, bensì da una trasformazione radicale della mente stessa, trasformazione che può derivare soltanto da una giusta educazione e da un completo sviluppo dell'essere umano e una rivoluzione che deve avvenire in tutto quanto lo spirito umano non soltanto nel pensiero. In ultima analisi il pensiero non è che un derivato, non la sorgente e occorre che abbia luogo una trasformazione della sorgente stessa, non basta il modificarsi del suo derivato. Oggi noi ci arrabbattiamo con dei derivati, con dei sintomi, non operiamo un cambiamento vitale, sradicando i vecchi abiti mentali, sgombrando la mente da tradizioni e consuetudini. È questo cambiamento vitale che deve importarci e soltanto una giusta educazione può determinarlo. Indagare ed imparare è funzione della mente. Quando dico imparare non intendo l'addestramento della memoria, ma la capacità di pensare con chiarezza ed equilibrio, senza farsi illusioni, prendendo le mosse dai fatti, non da credenze e ideali. Non c'è apprendimento se il pensiero trae origine da conclusioni. La mera acquisizione di nozioni non è apprendimento. Imparare comporta amore per la comprensione e amore di fare una cosa in se stessa. Imparare è possibile soltanto quando non c'è coercizione in nessuna forma. La gente per lo più ritiene che l'apprendimento venga favorito dal confronto, mentre è vero proprio il contrario. Il confronto genera frustrazione e incoraggia l'invidia che viene definita competizione. Come altre forme di persuasione, il confronto ostacola l'apprendimento e genera paura. Anche l'ambizione genera paura. L'ambizione, che sia individuale o che si ha, o che si identifichi con una collettività, è sempre antisociale. La cosiddetta nobile ambizione nei rapporti fra uomini è fondamentalmente deleteria. Bisogna incoraggiare lo svilupparsi di una mente sana che sia capace di affrontare molti aspetti della vita nel loro complesso e che non cerchi di sfuggirgli, in tal modo entrando in contraddizione con se stessa, diventando frustrata, amara, cinica. Ed è essenziale che la mente sia consapevole del proprio condizionamento, dei propri motivi e degli scopi che persegue. Dato che lo sviluppo di una mente sana è uno dei nostri obiettivi principali, diventa molto importante il modo come si insegna. Bisogna coltivare la mente nel suo complesso, non limitarsi a impartire nozioni. Nel processo dell'istruzione, l'educatore deve invitare alla discussione ed incoraggiare gli studenti a indagare e pensare con indipendenza. Quindi bisognerebbe insegnare ai bambini, fin da tenere età, a meditare, a riflettere sulle cose, non soltanto istruirli nozionisticamente, ma imparare ad apprendere e comprendere. Apprendere significa apprendere con uno, comprendere anche. Sono forme di impossessarsi delle nozioni per elaborarle. Così come noi elaboriamo gli alimenti trasformandoli in pietanze, poi li mangiamo per digerirli. Quindi processiamo nell'organismo il cibo perché diventi parte di noi stessi. Così l'istruzione deve essere metabolizzata. Non ci si deve limitare ad insegnare o a ricevere un'istruzione puramente nozionistica. laddove le forme più o meno organizzate di politica, di religione, dove il perpetuarsi di costumi e consuetudini vecchie, le tradizioni, laddove ogni strumento nozionistico ha fallito e continua a fallire, la politica che abbiamo in Italia, le istituzioni religiose, e le tradizioni, la mentalità comune, corrente, hanno fallito, là deve avvenire una vera rivoluzione ma deve nascere dall'interno di ognuno di noi. E soltanto con una vera autentica meditazione che non deve essere vista religiosamente, ma come l'intensa ricerca dell'individuo, l'esplorazione della mente nella mente stessa per detenere i vizi che può avere la collettività e l'individuo in sé ed ampliarne i suoi orizzonti, allora sì che si produrrà una vera rivoluzione, perché tutte le rivoluzioni politiche, sociali, culturali, economiche, industriali, di qualsiasi tipo, religiose, hanno fallito. Allora ci occorre un altro tipo di rivoluzione che non sia religiosa, che non sia politica, che non sia economica, sociale, industriale, produttiva, se no si rimarrà sempre delusi. Bene, queste sono le mie considerazioni del giorno e da molto che non trasmettevo in sprecher. Spero che quanti di voi mi abbiano seguito dal vivo e siano rimasti colpiti ed interessati e quindi spero di potervi trasmettere in un futuro altre trasmissioni. Questo è tutto per il momento. Il vostro Sant'Enchan vi saluta. Comunque è quello che mi urgeva dirvi che è necessario per la salute proprio del paese che si va di verso altre forme di rivoluzione perché la rivoluzione produttiva, la rivoluzione di tipo materialistico hanno fracassato bisogna vedere nuovi orizzonti nuove problematiche perché un momento che adesso sto ecco niente ho spento qua una radio che ci avevo accessa e scattato l'audio però dicevo per avere una vera rivoluzione per avere una nuova politica nel paese bisogna fare un cambio interiore un cambiamento che sia di mentalità non basta soltanto identificarsi in qualche cosa di esterno di superficiale bisogna che sia un cambiamento reale un cambiamento profondo un cambiamento radicale della nostra mente è inutile accusare la classe dirigente è inutile accusare la classe dirigente di cosse di nefandezze quando in realtà i nostri politici non sono nient'altro che con cittadini come tutti noi che noi gli diamo l'autorità di governare in nome nostro allora innanzitutto dobbiamo scegliere dirigenti migliori e poi dobbiamo noi come persone cambiare individualmente e collettivamente perché i politici vengono dalla stessa popolazione quindi se la popolazione non migliora i politici che andranno via via sostituendo i vecchi politici che vanno in pensione saranno né più né meno rappresentanti della stessa popolazione che li vota quindi se noi tutti nel complesso ci portiamo male ci comportiamo male facciamo delle cose che non vanno poi andremo a eleggere nostri connazionali che si comportano come noi ma nel governo perché entrano nei partiti politici e fanno carriera se la popolazione migliora nel suo insieme migliorerà anche la classe politica perché i cittadini migliori si postuleranno a incarichi pubblici e saranno migliori servitori dello Stato ma se noi tutti come collettività e anche individualmente non facciamo nulla per migliorare altri cittadini uguali a noi con i nostri difetti riusciranno a diventare politici poi noi ci lamentiamo della corruzione e della corruptela della classe politica ma magari al posto loro faremo lo stesso perché non miglioriamo individualmente e collettivamente quindi il miglioramento deve essere dal basso deve migliorare la popolazione in questo modo i politici che si andranno susseguendo saranno migliori perché saranno probabilmente altri cittadini come noi adesso vi saluto qui il vostro Santenchan spero che vi sia piaciuto il mio intervento di oggi e au revoir alla prossima ciao ciao